Da quanto tempo è che siete fermi? Praticamente la procedura di cassa integrazione straordinaria che ha sostituito una richiesta di mobilità inizialmente fatta dall'azienda è iniziata da luglio scorso. Parecchie persone sin da luglio sono già zero ore a casa e altre hanno lavorato solamente in maniera parziale. Negli ultimi periodi a lavorare sempre in maniera parziale sono neanche il 20% delle persone per mantenere le funzioni vitali dell'azienda. Purtroppo non si sta tenendo conto ma fortunatamente adesso con l'assessore Fioretti che ci sta dando una mano del fatto che un'eccellenza del genere a livello nazionale e soprattutto del territorio terramano non deve assolutamente morire. Speriamo sempre attraverso l'aiuto della regione che non possiamo prescindere dall'aiuto della regione arrivare al Mise per poter aprire un tavolo dove poi speriamo interverrà qualcuno per salvare quella che ripeto è un'eccellenza dal punto di vista tecnologico. C'è tanta preoccupazione? Beh certo ormai sono diversi mesi che siamo in questa situazione per cui oggi farci stare fuori dai cancelli così insomma ci dà grande preoccupazione. L'azienda vi ha impedito di entrare questa mattina? Sì in effetti siamo stati raggelati oltre che dal clima dal comportamento aziendale perché la nostra sarebbe stata sicuramente una manifestazione pacifica così come potete vedere. Ci sorprende molto questo atteggiamento di un'azienda che non ha fondi per pagare i dipendenti, per pagare le tredicesime, per pagare i contributi però le trova per pagare guardie private e impedirci l'ingresso nell'azienda, azienda che noi viviamo da oltre 30 anni e quindi questo è un atteggiamento che veramente ci sconforta e ci fa dubitare della buona gestione dell'azienda stessa perché se buttiamo così i soldi poi la ripresa è difficile veramente.